Ed ecco quindi finalmente albero abilità passive attive del guarda spore. Questa è la cosa forse più interessante perché a me come personaggio fa assolutamente schifo. Ma forse vedendo l'albero abilità potrò ricredermi un po'. Quindi l'albero abilità avrà questo aspetto. E per quanto riguarda la passiva, il testifato ovviamente ha il funghetto che quando pingate un nemico il fungo ci si lancia addosso. E come vi avevo annunciato con il Clawbringer, qualsiasi momento del danno al testifato si applica anche ai suoi compagni. Quindi ottimo. Forse in late game saranno decenti. Per quanto riguarda l'abilità d'azione, l'arco lo sapete, ve l'ho già detto, è una cosa troppo semplice e mi fa altamente schifo. Per quanto riguarda il tornado, crea 3 cicloni di gelo, quindi 3 tornadi. Ma continua a non avere senso che un ranger crei dei tornadi di ghiaccio, soprattutto perché abbiamo già troppe abilità di ghiaccio. Un bel tornado di veleno magari, eh? Però chiedere troppo a quanto pare. Vediamo l'albero abilità. Abilità uccisione, velocità di ricarica dell'abilità d'azione. Ovviamente questo sarà una roba per spammare le frecce. Energia del compagno aumentato e danno del compagno aumentato. Nulla di che. Danno arma da fuoco aumentato e destrezza arma aumentata. Primo pezzo, già mi fa schifo. Roba troppo semplice. Secondo punto. Danno di abilità aumentato. Il compagno funga ha probabilità di generare una nuvola tossica. Quindi, welcome back Maya. E poi, probabilità di colpo critico ed arma da fuoco aumentato. Probabilità di colpo critico del compagno aumentata. Carina. Ma a parte nuvola di spore, sono tutte troppo noiose ancora. Fretel contenimento ci andrà ad aumentare la capienza del caricatore e rigenerà le munizioni passate del tempo. Ottimo. Sì. Una roba corragente di munizioni. Alleluia. Spero che ci siano delle modi classi e mettono tre punti in stabilità. Poi abbiamo fungo medicamentoso. Quando ti è si fatto in modalità lotta per la vita, il suo compagno fungo cercherà di rianimarlo. Welcome back Flak. E poi si otterrà un aumento al danno inflitto per un bonus di tempo se ci si riesce. Cavalca 20. Abilità uccisione, velocità di movimento e carenza di fuoco aumentano dopo una kill per un certo periodo e può essere accumulabile. Carina. Però veramente mi sembra troppo un Zane con un pet. Non mi sta piacendo ancora per un momento. Brivio della caccia. Colpi critici di arma da fuoco vanno ad aumentare il danno del compagno. Effetto accumulabile 10 volte. Ok, va bene. Questa abilità potrebbe essere buona unendosi allo sparamagie. Così lo sparamagie guadagna CDR su le magie quando fa colpo critico e allo stesso tempo aumenta il danno del pet. Però... Non mi convince molto. Tiro comandato. Quando usa il mirino il testifato mantiene un aumento progressivo al danno arma da fuoco e alla riduzione danno. Per carità ci sta, ma se mi dai delle abilità di velocità di movimento non puoi mettermi delle abilità che devo star fermo a mirare. Cioè veramente, è proprio un'unione di Zane e Flak. Ma non va bene così, non va bene. Il re della natura. Quando il testifato infligge danno di abilità il nemico bersagliato subisce danni aumentati. E l'altro è danno d'arma da fuoco inflitto nei colpi critici aumentato. Cioè sempre lì, è sempre Flak. E poi, l'abilità finale, sperando che sia decente. I colpi critici d'arma dal fuoco del testifato ha una probabilità di rimbalzare e infliggere danni ed abilità. Danni ed abilità? Nani? I colpi rimbalzati hanno una piccola probabilità di rimbalzare una volta in più. Ok. Quindi la roba di Amara che faceva rimbalzare i proiettili, praticamente. Non mi piace. Continua, continua, continua a non piacermi. È troppo, troppo, troppo. Uno Zane che corre veloce ma poi deve star fermo per riuscire a far danno e quindi non serve a niente. Che senso ha farlo correre, aumentargli la velocità di ricarica e tutto? E poi degli stai fermo per aumentare il danno invece di farglielo aumentare in base alla sua velocità di movimento? Cioè, un Ranger non deve star fermo a cecchinare. Se gli dà la velocità di movimento deve essere una roba agile. Se lo fai cecchinare, non deve avere velocità di movimento. Non riesco a capire. Tutto il suo kit mi fa schifo. Oh beh, sarà sicuramente l'ultimo personaggio che proverò. Su questo non c'è dubbio. Detto ciò, vi invito a cliccare qui per vedere gli alberi abilità degli altri personaggi. Grazie. Grazie.